Meno partite mancano e più che ogni singolo pallone pesa di più, perché ogni squadra deve raggiungere il proprio obiettivo e le partite scarseggiano. Quindi è chiaro che dobbiamo saper leggere le situazioni di gioco, dobbiamo saper leggere l'importanza dei momenti e mi ripeto, dobbiamo continuare a fare quello che siamo riusciti a fare nelle ultime due partite, perché tanto poi il risultato passa attraverso quel tipo di prestazione, quel tipo di maniacalità con la quale abbiamo difeso, senza disdegnare che quando abbiamo la palla dobbiamo riuscire ad andare a far male agli avversari. Bisogna essere razionali e riuscire a leggere il gioco e le situazioni di gioco. Nelle ultime due partite c'è stata molta più attenzione difensiva, ma molte volte siamo mancati negli ultimi 30 metri nella scelta e ci ha precluso magari di vincere la partita anche col Pescara nel secondo tempo, perché se fossimo stati più lucidi in qualche scelta saremmo anche potuti andare davanti al portiere e non ci siamo andati. E' chiaro che mancano poche partite e il fatto di non subire gol e continuare a mantenere solidità difensiva questo magari ti fa neanche non perdere e quindi quando ormai le partite mancano è chiaro che è un tema importante. Quella chiacchierata famosa che facciamo dentro gli spogliatoi io solo insieme ai ragazzi. I ragazzi si sono dati come un obiettivo, ma risale a dicembre, quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica e il gruppo si dette come punto di arrivo, obiettivo 45 punti. E' chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati, consapevoli del fatto che il nostro obiettivo è la salvezza. Se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno, però noi dobbiamo raggiungere la salvezza.